Marco Codebo È un appendice al premio olio d'oliva di Levi che ciascun comune partecipante declina sul proprio territorio di competenza. A Chiavari il premio miglior oliveto è stato assegnato questa mattina a Palazzo Bianco. Il primo classificato è Marco Codebo, la cui passione è nata di pari passo con l'acquisto di una nuova casa immersa nel verde. Prendendo caso ho trovato l'oliveto molto grande, abbandonato completamente e l'ho portato anno dopo anno a dei buoni risultati sia in termini di qualità di prodotto che di aspetto esteriore. Il riconoscimento, oltre a premiare la fatica ininterrotta durante tutto l'arco dell'anno dei proprietari terrieri, è una sorta di sprone a superare le avversità insite nell'ambiente naturale. I nostri amministratori hanno dichiarato di portare avanti e che ci sostiene e ci consente anche di superare le varie difficoltà che sono non soltanto climatologiche ma dovute agli animali selvatici e quant' altre cose. La consegna del premio è stata occasione per una riflessione ad ampio raggio sull'olivicoltura che significa coltivazione degli oliveti, manutenzione del territorio ma anche possibilità di sviluppo turistico delle zone collinari. Oggi si lega all'agricoltura anche al discorso turismo perché l'olio turismo dal 1 gennaio 2020 è una legge nazionale, potrebbe essere un straordinario rilancio per la nostra economia, riuscire ad entrare in un oliveto e avere un'esperienza, un turismo esperienziale è qualcosa di veramente straordinario. La campagna di sensibilizzazione partita questa mattina proseguirà su tre piani differenti. L'acquisto di un prodotto di alta qualità è la prima cosa che bisogna fare. La seconda sicuramente è sensibilizzare la nostra ristorazione per fare in modo che sulle tavole degli avventori ci sia una carta degli oli del nostro territorio e della nostra regione. La terza cosa è un convegno, una manifestazione che faccia veramente il focus sull'olio extravergine di oliva.